Raga, io sono al Comic Con e che cosa deve succedere? Mi devo ritrovare con uno sfondo improvvisatissimo a leggere il capitolo 1113 di One Piece dove Vegapunk, quindi facciamolo anche noi, parte dalla fine del messaggio e ci dice che il mondo di One Piece sta per affondare! Il mondo di One Piece sta per affondare così in fondo al mare. E tu sei lì che dici, ma porca di una miseria, proprio adesso che ci sono 1800 cose da dire devo essere qua e fare un video estremamente improvvisato? Io appena l'ho letto ero lì così, col telefono in mano, ho detto, cosa sto leggendo? Ecco perché tutti mi stavano dicendo, leggilo, 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 perché è una roba devastante. Cioè questo è un messaggio fuori di testa e io sono contentissimo, sono davvero contentissimo perché... poi sono subito andato ad aprire i messaggi spoiler che mi hanno mandato e mi hanno tutti citato il video One Piece è un cesso, che feci un po' di tempo fa, ai tempi penso delle esplosioni di Lulusia, dove dissi il mondo di One Piece o deve essere prosciugato dall'acqua o deve essere sommerso dall'acqua. Così sommerso che probabilmente arriverebbe al livello della Red Line. Ed ecco perché allora i uomini, i pesci in qualche modo non ha senso che ritornino in superficie. Cioè questo era il pensiero. E poi successivamente, perché poi ci sono stati dei pensieri successivi, mi sono detto, ma allora, se c'è quel discorso che abbiamo fatto sui frutti del diavolo in questo video qua e questo discorso va nel funzionamento che i frutti del diavolo tecnicamente sono il male assoluto del mondo di One Piece, un male che è nato 800 anni prima, allora magari l'unica cosa che si può fare è sommergere letteralmente il mondo di One Piece per eliminare quel male là, un sacrificio per cancellare un altro. Cioè sta roba è folle, cioè sta roba è davvero folle. Ma allora, cerchiamo di capire il perché. Almeno vorrei capire il perché, ma ripercorriamo un attimo il capitolo perché davvero adesso sto andando veramente a memoria di quello che ho letto, non mi sono preparato nulla e tutto estremamente a sentimento. Partiamo dal concetto che effettivamente Vegapunk aveva già pianificato tutto, bisogna adesso capire quando. L'ha pianificato post-Lulusia e quindi ha visto gli effetti di Lulusia, ha detto, ah cavolo, però non ti fai due domande su che cosa hanno usato per distruggere Lulusia? Ho letteralmente visto questi cambiamenti climatici e della metratura dell'acqua e detto, ok, è arrivato il momento, ma proprio in quel momento lì, oppure l'aveva preparata già prima, quindi già sapeva. Per poi vedere il discorso di Mars che spacca il lumacofono, era estremamente fake, era una trappola, e infatti che cosa c'era davanti a lui? C'era in realtà Vegapunk, perché quello alla fine, il cervellone che noi non avevamo mai visto in quel modo lì, era letteralmente la testa di Vegapunk con ancora i capelli e il suo cervello all'interno, che comunque noi sappiamo che ha questo tipo di backup e di ricrescita che è fondamentale, però anche lui se lo chiede Mars e dice, ma scusate, ma sei vivo o sei morto? Che cosa vuol dire essere vivi a questo punto? Sei cosciente? Cioè se muore il tuo corpo ma la tua intelligenza, il tuo cervello lì, allora Vegapunk non sei davvero morto. Però lo stesso Vegapunk ci dice, sì, sono morto, il mio cuore e i miei polmoni hanno smesso di funzionare, però effettivamente non specifica le funzioni celebrali. E quindi effettivamente è questo dubbio amletico che Oda ha voluto inserire proprio per far capire che Vegapunk potrebbe tecnicamente non morire mai, basta che il backup lo fai su qualcun altro o qualcos'altro. Passando un attimo alla zona combattimenti, perché comunque anche quella parte lì vuole la sua parte, vediamo un Sanji che effettivamente, come ci siamo detti a livello logistico la scorsa volta, era il più probabile all'avvicinarsi a Nasjuro. È stato interessante che Frank è lì che cerca di difendere Bonnie, ma Sanji dice, non ti prenderai la scena, Bonnie la difendo io, e colpisce Nasjuro. Nasjuro si fa nulla perché poi morde letteralmente, lo trova a masticare a Sanji. Che cosa succede? Lui riesce a liberarsi anche perché Oimo e Kars lo bloccano e poi vediamo una Bonnie che utilizza il suo potere con la versione gigante, il futuro alternativo in cui lì è gigante, e va per colpire lo stesso Nasjuro. Quindi adesso noi ci troviamo in questa situazione dove questa parte qua, quindi Bonnie, Frankie e Sanji, che saranno penso i tre, che prenderanno parte attivamente al combattimento insieme a Oimo e Kars, dovranno vedersela non so per quanto tempo contro Nasjuro, calcolando che comunque lì vicino c'erano anche gente come Doll, Bluegrass se non sbaglio, e ancora Ghiglio Tyne, come si chiama l'altro viceammiraglio. Quindi dovremmo avere questo tipo di scontri che non so quanto possa effettivamente durare, perché se poi ci spostiamo anche sull'altro scontro, allora noi vediamo che c'è un Saturn che è lì davanti ed è molto interessante la scena dove Robin riconosce la voce di Saturn e quindi probabilmente tutte quelle diatribe su chi è che si era messo la mano di fronte di quasi disperazione del Buster Call di Oara e probabilmente era proprio Saturn. Anche se, diciamocela tutta, poco fa la differenza su chi era, perché penso che tra loro cinque il pensiero sia, diciamo, comune, no? Almeno penso che sia un pensiero comune, se no non avrebbe molto senso metterli nella stessa stanza, con lo stesso potere, con poteri simili, quindi direi che chi parlava o non parlava il concetto rimane sempre lo stesso. E ritornando al messaggio di Vegapunk, c'è una parte fondamentale, ragazzi, fondamentale che riapre di nuovo tutti i concetti che abbiamo sempre ripreso in tutti questi anni e dove siamo sempre stati, almeno per chi la pensava come me, bersagliati, nonostra leggere One Piece, di qua e di là. Lo stesso Vegapunk che cosa dice? Non prendete questo messaggio come se ci fosse il male o ci fosse il bene. Prendete questo messaggio come un messaggio, perché poi capiamo che cosa sta dicendo. Attenzione, ragazzi, il mondo verrà sommerso. Ti sta dicendo non ci sono buoni, non ci sono cattivi. Chi non vuole farvi sapere questa cosa non è detto che sia cattivo. Forse il cattivo sono io. Io che ho qualcosa da farmi perdonare, in un certo senso. E infatti anche comunque nel mondo vediamo come qualcuno pensa che Vegapunk sia un eroe e chi pensa che invece sia un costruttore di armi di distruzione. Quindi comunque anche lì c'è quella bilancia. Vegapunk, nella sua ricerca scientifica, nel suo voler fare un certo tipo di progresso, di attuare un progresso scientifico, ha fatto bene o ha fatto male? Questo è estremamente opinabile. E infatti il mondo, nella sua ignoranza, perché non conosce totalmente la storia, ovviamente si ritrova proprio in questa condizione qua, dove non può decidere se bene o male. E tecnicamente non possiamo decidere neanche noi, perché allora noi ci dobbiamo trovare nella condizione di dire non è che Gorosei e Imu, che forse dovremmo prendere in parte separata Imu, e sono dei personaggi che in realtà non volevano il progresso scientifico, non volevano far raccontare certe cose, perché magari queste cose avrebbero portato il mondo nel caos, e loro hanno sempre cercato l'equilibrio. Adesso, di nuovo, almeno ufficialmente, nel manga di One Piece le cose si riaprono. Nel mio canale si sono riaperte da due anni, ma nel mondo di One Piece sono ufficialmente riaperte tutte le condizioni condizioni da trattare. Non c'è più quello, quelli sono cattivissimi, lo dice Vegapunk, però è una goduria, però è davvero una goduria, perché poi lo stesso Morgans dice, questo messaggio distrugge tutto il concetto dei giornali, perché poi tra l'altro lo fanno anche notare lì Duval, perché Duval dice, ma scusa, ma Vegapunk non era vivo ed era stato rapito da Luffy, ma è morto quindi, ma non è morto per colpa di Luffy, quindi il giornale mente, quindi adesso il mondo sa che il giornale fa quello che gli pare e il mondo delle notizie non sarà più quello di prima o letteralmente non saranno più valide, cioè questa cosa metterà il mondo nel caos, comunque vada, cioè la mette nel caos. E allora io vi faccio diciamo un'allusione, no? Che poi non è tanta allusione e ne abbiamo spesso parlato, ma se queste armi ancestrali, di cui ormai conosciamo i nomi perlomeno, sono semplicemente dei mezzi di trasporto per salvarsi da questa alluvione, da questo mondo sommerso, da una riemersione di un One Piece originario e quindi di una geografia odierna che non era quella di 800 anni prima, quindi parliamo proprio di geografia, geologia del mondo di One Piece. E questa red line in verità forse è l'unico modo per contenere quel tipo di sommersione del mondo di One Piece. Ovviamente ragazzi, davvero, questo è un pensiero al volo che sto facendo in una location che non è mia, in un momento che non è mio, però davvero non potevo non parlarne. Allora, io adesso elaborerò tutti i pensieri, tutti i pensieri che ci sono da elaborare, io davvero vi invito, vi invito a recuperare quei due video che ho fatto, che ovviamente trovate poi nella descrizione, quindi c'è tutto e ci sarà tutto e soprattutto di pensare, di pensare e di pensare e dire ma effettivamente c'era uno stronzo che aveva ragione almeno ad avere dei dubbi in questo mondo? non è che fosse l'ora di chi se ne frega dire che forse c'è qualcun altro da seguire rispetto ad altri? Io ve la butto lì, poi nella vita fate quello che vi pare. Io sicuramente appena torno dal Comic Con mi metterò lì con calma scriverò un po' tutti i pensieri che mi vengono in mente, tra l'altro cavolo mi sono dimenticato di dirvelo ma anche la Color Spread, la Color Spread da della roba fantastica se ci ragioniamo a della roba fantastica ma non voglio portarvela adesso perché ve la voglio argomentare bene cioè davvero qua porterò un video probabilmente mercoledì sì bello articolato bello largo dove possiamo parlare di tutte e di più e poi parleremo anche della Color Spread io spero che non ci saranno rumori di sottofondo strani perdonatemi ma la location è questa ma non potevo non fare questo video quindi ci vediamo nei prossimi video e viva One Piece sì ovviamente il mondo sommerso di One Piece di One Piece